Non abbiamo previsto alcuna anticipazione della data di avvio dei saldi. Dopo aver sentito la volontà delle categorie economiche e degli imprenditori, ho deciso di non anticipare la data. Questo perché ritengo che sia un mio preciso dovere ascoltare il territorio e farmi portavoce delle esigenze e istanze di chi lavora quotidianamente a contatto con la gente. Così l'assessore regionale allo sviluppo economico Roberto Marcato spiega che la regione del Veneto conferma l'avvio dei saldi al primo agosto. La precisazione risulta necessaria dopo il dibattito emerso nei giorni scorsi a livello nazionale nel quale la regione Campania aveva chiesto la possibilità di anticipare la data all'inizio di video. Abbiamo ricevuto comunicazione da Confesercenti Veneto, Confcommercio Veneto, Federazione Moda Italia e Feder Distribuzione che confermano di essere favorevoli all'avvio dei saldi il primo agosto. Nel periodo dell'emergenza con cui dell'assessore abbiamo avuto modo di confrontarci quotidianamente con le categorie economiche e commercianti in particolare che hanno subito un calo delle attività e dei consumi al confronto costante si è rafforzata la collaborazione che ha portato appunto alla definizione del primo agosto.